Carlo De Masi, sindacalista della CISL nel settore degli elettrici e dell'energia, adesso Presidente della D-Consum. Dunque, le famiglie in questo momento di crisi, fra i tanti problemi che hanno, poi tratteremo delle imprese, ma vediamo le famiglie, hanno un problema sul costo dell'energia, perché evidentemente sulla bolletta che ciascuna delle nostre famiglie riceve ogni due mesi, ci sono una serie di costi che forse con la corrente non hanno nulla a che vedere. Dunque, è in atto la transizione energetica, c'è un modo per contenere, Presidente, questi costi? Sì, diciamo che noi riteniamo che i costi dell'energia siano rilevanti in questo momento, poi di difficoltà ancora di più per famiglie e imprese, per la competitività delle imprese e per la tenuta delle famiglie. Ora, la riflessione attenta che è avvenuta in questi anni, anche alla luce delle trasformazioni che sono avvenute nel sistema elettrico italiano, dalla liberalizzazione e poi dalle annesse privatizzazioni, diciamo che gli aspetti che hanno riguardato la parte sociale del costo della bolletta non sempre è stata adeguata l'attenzione da parte della politica e delle istituzioni. Oggi, a oltre 20 anni dalla liberalizzazione, crediamo che sia il momento, anche per le cose che lei diceva, riferite alla transizione energetica che porterà ulteriori aggravi di costo, anche per tutte le innovazioni che seguiranno, credo che dobbiamo mettere alcuni, a nostro avviso come ad e-consum, alcuni interventi. Sì, ma c'è la possibilità di individuare soluzioni concrete per diminuire questo costo della bolletta? Certamente, noi l'abbiamo portata all'attenzione sia nelle audizioni parlamentari che abbiamo avuto, sia nelle consultazioni che l'autorità di settore ha fatto e alcune proposte, così vado per sintesi. La prima, a nostro avviso, sarebbe proprio quella di rivedere complessivamente la struttura tariffaria adeguandole alle scelte di politica energetica che il Paese si darà. Mi spiego. Se, diciamo, il Paese, anche per seguire l'evoluzione della transizione energetica verso le innovazioni che sono in atto, dalla mobilità elettrica, la gestione, voglio dire, della domotica, delle smart city, delle smart grid, eccetera, ha bisogno, per esempio, di una forte trasformazione delle reti, reti che si dovranno interconnettere tra reti elettriche e reti, la fibra e le innovazioni che sono in atto, allora destinare le risorse secondo quelle che sono le esigenze, perché se facciamo rinnovabili in tutto il Paese dobbiamo adeguare la rete che prima andava dalle grandi centrali verso i punti di prelievo, oggi è il contrario, cioè sono tutti piccoli interventi che dovranno essere garantiti da rete adeguate. Questo è un primo intervento. Le dico gli altri così per sintesi. Bisogna rivedere, come dicevo, a vent'anni da liberalizzazione, un riposizionamento del sistema elettrico italiano, perché è esploso in mille rivoli dall'Enel monopolista e poche municipalizzato, oggi ci sono tanti punti, bisognerebbe mettere un intervento, una manutenzione almeno. Un terzo elemento è come intervenire per abbassare i costi. Una prima questione, poi casomai ne parleremo in dettaglio, riguarda gli oneri generali di sistema, ma riguarda anche la tassazione, perché dall'IVA a tutte le altre imposte che gravano anche sugli oneri generali è chiaro che ci sono delle distorsioni. E da ultimo, ma non per ultimo, diciamo altre due cose. Uno, si potrebbe creare una sorta di monitoraggio fra le varie istituzioni, il governo e aziende per monitorare l'andamento della transizione, ma da ultimo e non per ultimo quello di creare un fondo sociale con le risorse rimanenti a fine anno e giacente presso Cassa Conquaglia. Evidentemente tutte queste voci danno luogo ad un salvadanaio anche di una certa rilevanza, parliamo credo di qualche miliardo di Euro, che poi vengono utilizzati per le cose non sappiamo bene quali, sicuramente qualcosa di sociale bisognerebbe mettere in piedi. Ma molto brevemente, cosa c'è dentro una bolletta? C'è la spesa per la materia prima, c'è la spesa per il trasporto dell'energia e la parte commerciale, IVA imposte come dicevo prima e bollivari, oggi si paga anche il canone TV, è stato recentemente aggiunto anche quello, ci sono altri costi legati al tipo di contratto che ognuno di noi sceglie e l'ultimo sono questi famosi oneri generali di sistema. Che sono tanti? Sono tanti, ma soprattutto costano. Allora, fornisco un dato in maniera che i dati sono oggettivi, è un dato fornito recentemente dall'acquirente unico, mediamente gli oneri generali di sistema valgono un quarto del costo delle bollette, sia per famiglia che per l'impresa. Certamente, diciamo, l'ultimo dato fornito mediamente è il 22,5%, quindi un dato abbastanza rilevante. Le componenti, il valore è di 14 miliardi per il 2020, stimato, di cui 12 miliardi riguardano la parte delle rinnovabili e il sostegno alle imprese energivore, che le pagano anche le famiglie. E l'altro sono altri componenti che riguardano, ne cito qualcuno, l'efficienza energetica, le famiglie, il famoso bonus che vale però molto poco, 0,15 miliardi, quindi 150 milioni per le famiglie in povertà energetica, che sono 5 milioni circa, 0,5 miliardi per il decommissioning del nucleare, la famosa dismissione delle centrali che non hanno mai funzionato a noi nel nostro paese, 0,135 miliardi per vanno a bilancio dello Stato e non c'entrano nulla con la bolletta elettrica. Una cosa enorme, venendo al dato politico così concludiamo, se lei fosse nelle condizioni di poter gestire questo famoso fondo della cassa con guaglio, quello che sia con tutto questo, cosa ci farebbe? Sicuramente lo destinerei ad abbassare i costi delle bollette, partendo proprio da quelle famiglie in povertà energetica, perché il solo bonus non basta, ancorché noi come associazione consumatori stiamo facendo la battaglia per l'automatismo che ormai dovrebbe andare in vigore, perché la burocrazia assorbe e quindi molti non lo chiedono, solo il 30% chiede il bonus anche avendo il diritto e quindi creare appunto un fondo sociale che potrebbe essere finanziato da queste risorse giacenti come dicevamo a fine anno, prelevati e non erogati, che a volte vanno ad altri settori e non c'entrano nulla con i contribuenti elettrici, ma anche per esempio dare un sostegno alla bonifica delle periferie per esempio o fare opere sociali di questa natura a sostegno appunto delle famiglie in povertà energetica. Grazie Presidente. Grazie a voi.